Io non l'ho certo sentirmi dire che sembra che canto la sigla dei 44 gatti, compaio. Anche perché io lo sento, anche in viso si vedeva che non stavo canando contenta, cioè ero proprio dentro il pezzo, perché lo conosco e lo so che sacrificio ho fatto questa settimana io per affrontare un pezzo del genere. Mi ha messo proprio a disagio il modo in cui mi ha presa per il culo, capito, davanti a tutti. Cioè prendere in giro una persona che io non penso di aver canto io il sorriso non ce l'avevo, io ero dentro. Cosa che mi fa arrabbiare è che ti giuro in questa settimana ci ho messo così tanto, così tanto che mi sono fatta anche male con me stessa. Vabbè ci sta che ci rimani male, ci sta che ti vuoi stare in un po' da sola, ci sta che ci rifletti, tutto è tutto giusto e lecito. Però tira fuori il carattere. Certo, io mi metto gli obiettivi davanti e devo andare avanti, andrò avanti.